Sono successe delle cose proprio belle, belle. Beh, è vero, è vero, è vero. Bel Sanremo, proprio con tante cose belle, canzoni belle. Sì, sì, belle. Sì, belle, belle. Per esempio Fiorella ha fatto una canzone... Bella Mannoia. Dove sono tutte le donne, la puttana, la monaca, la donna. È vero? Una, nessuna, centomila. Sì, bellissima anche quella. Bellissima anche la canzone. A te quale è piaciuta di più? Senza offesa per gli altri, si esprimono gusti personali, ecco, pareri. La canzone che mi ha... Sai che non... Non lo sai? No, beh, io ce ne ho una diversa. Alcune canzoni mi sono piaciute. Sì. Anche perché c'è una canzone che mi ha fatto impazzire proprio, no. Beh, a me quella della Loredana... Siamo cominciati, era tutto bello, adesso non c'è neanche una. No! No. Beh, sai, l'ha presa lunga. Sto pensando, sì. Sto pensando. No, a me Loredana è piaciuta molto. Loredana è piaciuta molto. L'abbiamo già detto. Mi è piaciuta anche. E beh, lo ridico perché così sottolineo la situazione. Beh, pensa intanto. Te pensa. Ragazzi, ma... Te pensa. Te pensa. Dimmi, cosa vuoi? Una mano molto piacere. Cosa vuoi? No, hai detto che ci pensavi quella che ti era piaciuta. Eh, non mi è venuto. Non ti viene? Secondo me, quella che mi piaciuta più è Loredana. Anche lei. Gali? Gali. 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 Non ti ricordi un cazzo, questa è la verità. Senti, per favore. Intanto non mancarmi di rispetto. Eh? Non mancarmi di rispetto. No, ma secondo te ti mancherei mai di rispetto? Ma no, non dire queste cose. Ma non potrei. Gli occhiali. Gli occhiali, mi dai i tuoi occhiali? Si vede meglio? Puliscimi lì. Ma puliscimi gli occhiali con cosa... Ma guarda, anche il servizio ci vuole. Gali è fantastico. Posso sputtargli sopra? Sai se mi è piaciuto moltissimo. Oh, Dargen. Per esempio, quando... Cosa devi vedere, tra parentesi? Quando, eh? Cosa devi vedere? Va bene, andiamo dritti, che sennò ogni volta... Allora, cosa... Ma volevo dire... Ecco, vedi. Vedi? Non se lo ricordo. Che ridere. Allora, perché io sto dicendo una vera e mezz'ora... Dicevi, per esempio, mi è piaciuto quando... Ho trovato straordinario quando... Io Mahmood lo amo. È benissimo. È un mio amico. Lo trovo direzionale. Ma infatti a me è piaciuto. Quando ha cantato con i sardi. Ah, il tenore. Grandissimo. Il tenore. Il tenore, fantastico. È stata un'idea geniale. Sì. E lui, devo dire... Perché Dalla è inimitabile. Quindi l'ha cantata con una grande intensità, però. Quindi vuol dire che i rapper sanno cantare tutti. Sì, certo. Chi più, chi meno. Rappano perché si usa. Rappassero un po' meno. Magari si capirebbe qualcosa. Oh, adesso voglio sentire... Mara. Prego? No, dico, volevo sentire te. Hai detto... No, a me sono piaciute tante. Eh, vai. Mi è piaciuta Loredana, mi è piaciuta Annalisa, mi è piaciuta Mango, mi sono piaciute... E poi mi è piaciuto... E poi mi è piaciuto... Ah, ma vedi che non mi ricordo... Beh, è una bella coppietta. Anche tu, anche lei, non si ricorda, non si ricorda... No, non è male. Ed è vero, sai, sono già passati due giorni, cosa vuoi che ci ricordiamo. Ma cosa due giorni, ieri, ieri? È vero o no? Ma non è vero, è passato neanche un giorno. Ebbè, ma basta, a una certa età basta un giorno per dimenticare... Ma chi volevi dire? Chi era quell'altro che volevi dire? Hai detto? Mi è piaciuto... Come si chiama? Vi ho dato. Vi ho dato? Vi ho dato. Bravissimo, Antonio. Mi è piaciuta tantissimo Giorgia, mi sono piaciuti tanti, è stato un bellissimo spettacolo. Mi sono molto divertita, devo dire la verità. E i duetti sono quelli che sono piaciuti più di tutti a Ornella. La serata più bella. Eh sì, perché... Beh, Roberto Vecchioni è stato bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Quando si è messo più da parte. È di lato, fantastico. A fare spazio. Grande. A ragazzo. Bravissimo. Il grande professore. Sì. Bravissimo. Beh, e anche Angelina. Penso una coppia. Angelina, la rondine, è una canzone difficile. Difficile. Difficilissima, difficilissima. Devo dire una cosa. Sì, prego. Secondo me, questo Sanremo dovrebbe essere un evento. Sì. No? Ecco. Se lo presenta una persona che tutte le sere, alle otto, lo vediamo fare. Sì. E la pasta, le cose. Come fa a presentare un evento? Ti do la mia teoria, se vuoi. Sì. Che se non lo fa una persona che sa fare televisione, quella cosa lì non la porti a casa. Eh, però scusa. Quando ha fatto Baglioni? Baglioni? Ma Baglioni è un uomo di spettacolo che comunque fa serate, tutte le serate della sua vita. Cioè fa concerti. E' una vita. Eh, quindi, guarda che è una cosa difficile Sanremo. Molto. Ma tremenda. E poi unisci il pubblico che ti vede quotidianamente, te lo porti lì. Diventa una cosa molto più pop, più facile. Come a casa. Eh? Come a casa, sì, sì. Io volevo dire una cosa, poi c'è una cosa io anche, io volevo salutare Joliet che non conosco, però trovo che sia stato un atteggiamento nei suoi confronti disgustoso. Bruttissimo, bruttissimo. Disgustoso. E' uno fortissimo. E' uno fortissimo. E' uno fortissimo di chi? Di Joliet. 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 Orribile, orribile. Ma poi perché? Che senso ha? Ma appunto, nessuno, anzi lo aspettiamo per la trovarci, dai così ci gacchieriamo. Eh, speriamo. Ma lui fa dei pienoni pazzesi. Ma quando voi avete fatto i primi Sanremo? Nel 68 il primo. No, io, cos'era? 68 o 67? No. No, beh, lì non c'era. Non c'era. Non c'era. Ma non c'eri neanche tu, scusa, Ornella. Non c'eri neanche te. Tu hai partecipato dal 65 al 68 consecutivamente. Posso solo raccontare la mia prima partecipazione? Prego. Racconta. Non avevo te. Recitavo, ero cantino. Sì. A quel punto eravamo in Sardegna. Io dovevo cantare a Sanremo. Parto, prendo l'aereo, arrivo a Milano, poi prendi la macchina, neve, tutto ghiacciato, ferma, mi scappava la pipì. Ti scappa sempre. Giratevi tutti i camionisti. Devo fare la pipì? Arrivo, lì non posso neanche provare una canzone orrenda. E mi metto la parrucca. Ma orrenda sembrava. Il pianeta delle scimmie. Con la testa quadrata. Ho fatto questa canzone, mi hanno mandato via, in due secondi l'ho di nuovo a Sassari. È una cosa... Sarebbe interessante. La canzone si chiamava Abbracciami Forte. È vero? Eh no, io ti darò di più. Allora quello è il secondo Sanremo, nel 66. Per tutte e due non mi piace. Ma io ti darò di più, era bella. Beh sì. Era bella. No, va bene. Con orietta l'hai cantata. Con orietta Berti. E come si... Dico con orietta. Quello lì, quale? 66. L'hai cantata con orietta, io ti darò di più. Mi ricordo benissimo. Senti, la musica... Perfetto. Io ti darò di più. La musica è finita, era 68 o 66? Perfetto a che dicevano... Allora, la... Come si chiamava? Beh, che copietta, come si chiamava? Un attimo, vedrai che mi viene la Cinquetti. La Cinquetti? La Cinquetti che non ho l'età. Sì, 64. Invece la Manonet ti darà di più. Carini. Carini, sì. Ah, carini. No, invece no, la musica è finita nel 67. Ecco, quello lì è stato il mio primo salvo. Ah, primo salvo. Poi tu sei andata anche nel 68 quando c'era Armstrong. La musica è finita, era... Certo, è l'unico autografo che mi sono fatta fare. Ti sei fatta fare autografo da Armstrong? Sì, sì, sono andata nella camera, lui stava... Come è nella camera? Nella camera sua dove c'era la sua moglie, eccetera. Cioè, sei andata in camera da letto? Sì. Ma come si, di Armstrong? Sì, beh, beh, insomma, anche lui aveva una certa età, voglio dire. Ho capito, ma... Toc, toc... No, toc, toc, mi ha accompagnato il manager... Cioè, senza bussare? No, senza bussare. Il manager che l'ha portato in Italia mi ha accompagnato e quindi gli ho fatto fare l'autografo che ho tenuto e ho incorniciato, perché devo dire, lui ha scritto un libro che dice quando ci siamo sposati, io e i miei genitori eravamo molto giovani. Bello! Carino, 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 molto carino. Beh, grande, grande. Non arriva su lui. Molto carino, molto carino. Ne ho fatti tanti. Ne hai fatti tanti, sì. Tanti, non so quanti, tanti.